Chi è Yide, sovrannominato Duo Duo, è un pilotino di un metro scarso e appena 5 anni ed ha record la sua prima esperienza al cockpit di un biplano. L'anno scorso il padre lo filmò mentre camminava a seminudo sul Monte Fujio nell'inverno new yorkese per farlo finire nel Guinness dei primati. Ma forse ci finirà il padre, recordman, nello sfruttamento pubblicitario di un bambino.